Alla fine del XIX secolo il Moulin Rouge era uno dei ritrovi più popolari di Parigi. I suoi numeri di varietà furono immortalati da Toulouse-Lautrec, oggi universalmente riconosciuto come uno dei maggiori artisti francesi del suo tempo. Henri trascorreva spesso nottate intere bevendo, disegnando, ritraendo con nervosa immediatezza gli spettacoli e gli spettatori. Il dipinto che vedete qui ne è un esempio perfetto con il colore steso in rapide e intense pennellate. Un'iscrizione matita recentemente scoperta sul retro di questo famoso dipinto dice la lezione ai nuovi arrivati di Valentin il Senzossa. Henri de Toulouse-Lautrec non rappresentò quindi una serata qualunque al Moulin Rouge. Piuttosto quello che vediamo è un momento specifico in cui un uomo, ora conosciuto solo per il suo soprannome, che sottolinea la sua agilità come ballerino, mostra i passi a una giovane donna dalle calze rosse. Molti dei personaggi del dipinto sono noti membri di quel circolo di prostitute e artisti che Lautrec era solito frequentare. Tra queste riconosciamo sul fondo a destra il poeta irlandese William Butler Yeats dalla folta barba bianca. Una delle figure misteriose tuttavia è la donna in primo piano di cui cogliamo tutta la bellezza di un profilo perfetto sottolineato dallo stile del pittore. Nelle opere di Toulouse-Lautrec il colore si fa leggero, la tavolozza chiara, la pennellata netta e incisiva alla ricerca dell'essenzialità della linea. Di nascita aristocratica il pittore si sentì sempre estraneo all'ambiente a cui apparteneva a causa della sua deformità. Durante le infanze infatti aveva subito un arresto della crescita e dello sviluppo di gambe braccia. Sentendosi un emarginato quindi preferì sempre la compagnia di emarginati di ogni tipo, attricette, cantanti, clown e prostitute che diventarono i soggetti dei suoi dipinti. Da tutto ciò ne emerge un linguaggio moderno molto comunicativo che non può non catturare la nostra attenzione trasportandoci in un mondo fatto di cantanti e ballerine, canaglie e gentiluomini. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!